partite che ormai sta per finire siamo 2 a 0 la fiorentina ragazzi che se domani non vinciamo se domani non vinciamo e dobbiamo approfittarne dobbiamo vincere per forza pareggio si col pareggio magari mi aspettavo sconfitta in casa dalla roma sinceramente era imprevedibile che la roma non facesse neanche un gol secondo tempo che di presto la roma ha fatto quasi niente perciò sì qualche cosa non avuta però è incredibile questo è un risultato davvero inaspettato qualche schedina fa strumento saltata perché un 2 a 0 così c'è neanche gol in gol della roma neanche insomma che dire a chi dirà no vabbè alla fine sarà magari un gol psicologico non lo so dovuto anche alla champions potrebbe essere non lo so questa fiorentina guarda caso dopo la mancanza di astori può essere un caso non lo so non ne ha presso neanche più una e addirittura ha fatto un grande ma è finita praticamente ha fatto un colpaccio qua a roma 2 a 0 incredibile a roma ha avuto dei crolli in casa pazzeschi in questa stagione quindi un gran merito la fiorentina pioli sta facendo un gran lavoro e lì lì proprio a scoprire sul collo al milan adesso se milan domani non vince a meno uno a meno un punto quale 50 punti adesso quindi complimenti alla fiorentina che sta facendo un gran campionato in questo gli ultimi due mesi praticamente quest'ultimo mese pioli ha realizzato una squadra che sembrava ha avuto un inizio stagione che era a parte che squadra era ancora incompleta perciò ancora mancavano dei giocatori giocatori erano prendati via quindi diciamo che adesso si è un po riassestata però comunque questa fiorentina sarà davvero una grandissima impresa vince la roma come sempre la roma che ogni tanto si capisce cosa conviene crolla a questi crolli che sono un fattore psicologico non lo so comunque buon per noi interisti che domani abbiamo la possibilità di sorpassarli o quantomeno di raggiungerli e già non è male come cosa già non è male come cosa quindi fiorentina vince 2 a 0 clamorosamente vedremo noi domani col toro cosa riusciamo a combinare vedremo vedremo speriamo 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 le pesciolino e lumachina ma bounce bevece 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 Grazie a tutti.